Quasi 10.000 chili di generi di prima necessità sono stati raccolti nell'ultima edizione dell'iniziativa Da Dono Nasce Dono, organizzata da Caritas, La Ricerca e Piacenza Solidale. Il nuovo appuntamento è in programma sabato 27 maggio tra città e provincia. Sono 150 i volontari impegnati nell'iniziativa. Abbiamo 15 punti vendita della grande distribuzione organizzata che hanno aderito anche quest'anno a questa raccolta. Davanti ai punti vendita avremo dei volontari che si torneranno, daranno alle persone che vengono a fare spesa la lista della spesa, nel senso che la lista dei prodotti che in qualche modo sono di prima necessità e possibilmente anche di lunga durata, di lunga conservazione. Possiamo già tracciare un bilancio di questi primi quattro mesi del 2017? Non c'è un aumento numerico, se non per quanto riguarda meno i dati Caritas, se non riguarda la mensa, di persistere comunque della gravità delle situazioni delle famiglie. Oltre 500 le famiglie aiutate da Caritas. Le derrate alimentari verranno destinate tra gli altri anche alla ricerca, i frati minori di Santa Maria di Campagna e alcune parrocchie cittadine. Grazie. Grazie.